ciao ragazzi e benvenuti al nuovo video della comunità open page italia oggi voglio parlarvi di un servizio interessantissimo e bellissimo almeno io lo adoro è normale che voi mi sentirete molte volte spesso dire che io adoro un servizio ma effettivamente vero perché l'ho utilizzato lo trovo veramente fantastico ed è vero anche che ho fatto anche un video che parlava della musica creative commons ho parlato di ccmixeter.org però non ho parlato di dig.ccmixeter.org quindi adesso voglio fare questo video allora questa piattaforma è veramente interessante ed è bella più più che altro è indipendente quindi sapete che io prediligo proprio i concetti di siti o comunque strutture indipendenti che permettono proprio la condivisione di materiale qui parliamo di audio quindi è un sito aperto quindi con licenze open o comunque la maggior parte o almeno non sono sicura che sono che sono tutte open alcuna effettivamente non la conosco e ve lo devo dire perché comunque posso anche dire cavolate queste di qua sono open bellissime fantastiche e l'unica cosa che dovete fare ogni volta che comunque andate a scaricare un file controllate se le licenze sono libere di poter essere modificate questa di qua allora la prima ve lo dico subito che può essere modificata utilizzata per progetti commerciali e l'unica cosa deve essere accreditata ma penso che siano tutte le licenze anche la più open possibile tranne quelle public domain e devono essere comunque tutte accreditate ma mi sembra pure giusto visto che la persona vi sta dando a disposizione un audio free da poter condividere con altre persone la prima licenza vi permette insomma di fare tutto dovete accreditare però l'autore insomma all'opera ed mi sembra giusto nella seconda potete modificarlo potete condividerlo ma non potete utilizzarlo per progetti commerciali quindi controllate la terza devo dire la verità non lo sono anch'io quindi state attenti devo dire la verità qua c'è l'esempio cliccate e vedete cosa vi dicono ogni volta che scaricato un file controllate tutto allora poi qui ci sono i tag perché effettivamente è ampio il sito ci sono tantissime categorie sono fantastiche tutte e scegliete quelle che vi piacciono di più qui vedete qua la lista è lunghissima ma sembra vedete qui quanto ce ne sono 26 mila e 319 risorse ma mi sembrano poco un bellissimo database di licenze comunque è di audio sotto licenza open o comunque che possono essere utilizzati poi inoltre potete cliccare su feature e qui potete scegliere fra musica per film giochi o per reuso commerciale indovinate quale scelgo la terza è stata selezionata da me adesso aspettiamo qualche istante non è il sito e ragazzi ve lo dico perché il computer mio che è un che fa capriccio e quando apro troppe cose va un pochettino in panna allora se clicco sulle blu ascolto l'audio se clicco sull'arancione con la nuvoletta me lo posso scaricare vedete vedete qui quanto ce ne abbiamo dice di audio che comunque può essere utilizzato anche per servizi commerciali allora adesso io clicco più che altro per sapere effettivamente che tipologia specifica di licenza abbia perché è giusto una volta che lo scarico comunque devo sapere chi è l'autore perché lo devo menzionare anche se modifico anche se lo utilizzo per progetti commerciali quindi magari se dovete fare un podcast edite del 0,01 al 0,0 15 secondi sto utilizzando l'audio creato dal dal signor tot con la pagina di riferimento e tutto il resto insomma quindi accreditate bene perché è l'unica cosa che voi potete fare e potete diffondere l'opera che ha fatto la determinata persona quindi l'autore qui come abbiamo visto c'è ci sono le icone che abbiamo visto precedentemente le due icone e questa di qui invece quella sociale che potete condividere sulle maggiori piattaforme youtube dell'emotion facebook ma penso che siano anche sociali io sinceramente voglio scaricarlo perché è vero pure che voglio creare un podcast quindi mi interessa scaricarlo vedete subito che qui c'è quella di youtube perché è normale che è associato tantissimo a youtube perché io magari che ne so credo che è un video e voglio una musica iniziale quindi magari poi usare il insomma la l'audio io invece voglio scaricarlo preciso perché voglio modificare mio audio visto che la licenza me lo consente se non dovesse consentirmelo ahimè non lo farei perché è giusto scusate scaricate due vedete ok vabbè sono un po così va bene già l'una è stata scaricata quindi potrei tranquillissimamente aprirla come ho detto precedentemente la licenza mi permette di modificarlo e di utilizzarla anche per prodotti commerciali l'unica cosa accreditate va bene perfetto ora apro a audacity che sicuramente voi conoscete probabilmente anche meglio di me perché adesso devo dire la verità è da poco che l'utilizzo ed è veramente fantastico questo tipo di programma perché permette insomma di fare tantissime cose e ancora ci sto lavorando quando diventerò più bravo farò anche un video che vi farà vedere magari come unire più pezzi adesso vi faccio vedere soltanto quattro cose in croce quindi io faccio che apro i file recenti che sarebbe quello che comunque ho scaricato perché l'avevo aperto precedentemente quindi lui già lo riconosce vedete subito che c'è l'audio metto in pausa adesso per esempio io vorrei sottolineare e prendermi soltanto un pezzettino perché che ne so voglio fare un po di casa immaginate un po di caso che mi dure già la sigla o 5 minuti 45 le persone già se ne vanno e mi dicono ciao ciao bella e allora quindi ho selezionato la stringhetta di audio adesso basta cliccare su cance e cancellate la parte che non mi interessa almeno quella che è selezionata e quella che non vi interessa se invece magari volete togliere soltanto che sono la parte iniziale e selezionate quella che non vi interessa e cliccate su cance io mi interessa con l'iniziale soltanto quindi vedete che ho i miei 15 secondi e le posso comunque aggiungere che ne so sia sul mio podcast e quindi poi magari aggiungere e unire tutti i pezzi io adesso questo di qui me lo sto e me lo me lo conservo e me lo esporto e come selezione per esempio l'esporto come selezione do il nome oppure lo posso salvare come progetto e poi magari unire i pezzi che ne so c'è la registrazione poi magari dico ora che ho registrato adesso tot mi deve unire questo pezzo e uniamo tutto il resto quindi è interessante di quello tutte le cose che possono essere utilizzate con questi audio l'unica cosa è che comunque è importante visto che incoraggiare le piattaforme a utilizzare queste forme insomma di di scienza aperta e quindi una cosa che aspettate moto va bene le secondi vi mettono così almeno ma che incoraggiare tutte le piattaforme per utilizzare insomma licenza aperta e quindi diffondere la cultura e quindi avere una cultura che non si basa soltanto sulle persone che hanno soldi e quindi per a tutti la possibilità di acculturarsi nel loro nel loro piccolo anche nel loro grande devo dire la verità ed è e come possiamo incentivare una una cosa semplice potete donare perché sono delle delle piattaforme indipendenti quindi sapete che ogni piattaforma a prescindere lo dico perché lo so ha sempre dei costi e soprattutto su una persona su una piattaforma indipendente ha bisogno insomma di donate di donazioni però è normale che non tutti possono donare ed è giusto che sia così insomma siamo in un periodo parte che abbastanza particolare pensiamo che comunque molti giovani sono disoccupati immagino che magari non si riesca a donare e se non riuscite a donare però potete fare tranquillissimamente una cosa interessantissima che non costa nulla avete tantissimi social create che ne so anche un video e lo postate su youtube create che ne so delle slide parlate del servizio condividete utilizzate twitter e utilizzate magari gli hashtag che vi dicono direttamente la piattaforma stessa e quindi riuscirete comunque a coinvolgere sempre più persone e nel vostro piccolo sicuramente avete fatto la differenza perché avete dato una visibilità a un servizio che lo merita e quindi allo stesso tempo avete garantito la meritocrazia che è un punto fondamentale per le piattaforme che stanno online e che sono indipendenti dare visibilità perché i servizi che meritano devono essere comunque presi diciamo devono essere conosciuti da tante persone per permettere a loro di riuscire a stare a galla e a competere anche con altre piattaforme che magari hanno diciamo una copertura economica differente quindi aiutiamo tutte le piattaforme che danno promuovono licenze open qui si vede subito che ci sono dei punti sanienti è vero lo dico di importanza vitale sui valori proprio sulla cultura prossimo possibile di un futuro nel senso che si vede subito che c'è amore per le cose che si fanno collaborazione apertura mentale senza barriere e qui io sinceramente non so che dire spero vivamente che vi sia piaciuto il video condividete e create anche voi dei video delle cose particolari magari sicuramente sapete utilizzare meglio ma vari strumenti e quindi magari fate qualcosa di più interessante però cercate di aiutare le piattaforme che condivide che danno dei servizi veramente fantastici vedete che qua hanno un database enorme e quindi allo stesso tempo hanno anche delle spese quindi aiutiamo tutte queste piattaforme che permettono di acculturarci senza farci spendere soldi con questo è tutto un saluto dalla comunità open page italia